L'ultima puntata di Ballando con le stelle si è conclusa in maniera del tutto inaspettata. La, fuga, improvvisa di Guillermo Mariotto, ha creato un certo scompiglio. Non solo tra i presenti e il pubblico da casa, che fino a ieri non ha saputo cos'era successo al giurato. Ma anche tra i concorrenti, in particolare per Bianca Guaccero. In molti si sono accorti del fatto che prima di andarsene, Mariotto aveva fatto qualcosa che non aveva mai fatto prima nei confronti della concorrente di Ballando con le stelle, che adesso si ritrova a rischio per la finale e ad essere completamente beffata dal corso degli eventi. Cos'è successo? L'astio di Guillermo Mariotto nei confronti di Bianca Guaccero. Bianca Guaccero è indubbiamente una delle concorrenti più brave dell'edizione 2024 di Ballando con le stelle. L'attrice danza come una vera professionista, ed ha sempre il meglio in coppia con Giovanni Pernice. Ma, nonostante il suo indiscutibile talento, la Guaccero non è ancora riuscita a conquistare Guillermo Mariotto. Quest'ultimo si sta dimostrando molto generoso con gli altri concorrenti, e spesso assegna dei 10 ad esibizioni meno convincenti rispetto a quelle di Bianca. Con lei però, resta sempre piuttosto avaro sia con i voti sia con i complimenti. Ma per quale motivo? Ballando con le stelle? Cosa è successo tra Guillermo Mariotto e Bianca Guaccero? Forse non tutti ricordano che Guillermo Mariotto e Bianca Guaccero hanno già avuto modo di lavorare insieme. È successo nel 2019, quando l'attrice era al timone di Detto Fatto su Rai 2, e il giurato di Ballando con le stelle faceva parte del cast fisso della trasmissione. Durante una puntata, Mariotto aveva apertamente criticato uno sketch della Guaccero con il comico Giampaolo Gambi. Che disastro che siete, lei come si chiama scusi, ha chiesto a Giampaolo Gambi, NDR. Gandhi, cosa ci fa lì? Cosa ci fai in questo programma? Cosa c'entri? Questi sketch li scrive lei? Chi glieli passa? Ma va, ora per lasciare qualcuno basta un sms, non voglio più stare con te, aveva detto Mariotto. Mariotto invece lei cosa ci fa là? Aveva replicato aspramente la Guaccero. Vi guardo, vi controllo, vi osservo, vi annuso, la risposta dello stilista venezuelano che poi, aveva aggiunto, ma lei cerca rogna? Dopo questo episodio, Mariotto fu tagliato fuori dal cast di Detto Fatto, e il sospetto è che il motivo fu proprio lo scontro con la conduttrice. Questo spiega l'astio che c'è ancora oggi tra i due. Ma durante l'ultima puntata, qualcosa sarebbe cambiato. Ballando con le stelle, la beffa a Bianca Guaccero dopo la fuga di Mariotto. Prima di lasciare improvvisamente lo studio di Ballando con le stelle, durante la puntata di sabato, Guillermo Mariotto aveva fatto qualcosa di completamente inedito nei confronti di Bianca Guaccero. Il giudice aveva assegnato un inedito 9 alla sua esibizione. Peccato che poi Milli Carlucci ha fatto un annuncio che ha deluso molto la concorrente. Bianca Guaccero a rischio. Dopo aver, finalmente, ricevuto un voto mai visto da Guillermo Mariotto, la gioia di Bianca Guaccero è durata ben poco. Quando Mariotto è andato via, infatti, Milli Carlucci ha annunciato che i suoi voti sarebbero stati annullati, compreso il 9 assegnato alla Guaccero. Non solo la conduttrice non si è portata a casa quel voto alto, ma ora rischia di non arrivare nemmeno in finale. Grazie.